E poi, col giusto tempismo, dondoliamo mentre il treno sta passando e atterriamo sopra il vagone. Buh! Facciamo così! Udi, salta! Una parte di me vuole aiutarlo. No, così fa esperienza. Non lo so, costa molto. Come funziona? Oh, la prendo! Visto? Ti avevo detto che ci saremmo divertiti. Abbiamo concezioni diverse di divertimento. Beh, io non canto a comando. Non sono un animale da circo. Canta. Sono serio? Canta. Fattoria, 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 qui c'è latte, burro e formaggi. Più brio. Quanto ne vuoi? Quanto ti piace? Più vivace! Vieni a vedere cosa c'è qua. Quello che abbiamo. Ti piacerà? Ah, ah! Bapsi bap, vibri bap, bapsi bap. Buonan' gustosa. Questo è il motto. Tutto per voi. Da Etele Otto! E perché l'hai fatto? Odio quel jingle. Potevi dirmi di smettere? Che cos'è? Ehi, attento! Che c'è, Vic? Ti sta dando fastidio? No! Non mi disturba affatto! Non ti disturba neanche me! Mi guarderei tutto il giorno. Non tirare! Sei tu, Chetty! Se tirassi, te ne accorceresti! Qualsiasi cosa tu faccia, alla fine mi ferisce! Ferirti? Ho sempre e solo cercato di aiutarti! Oh sì, perché ogni volta che sei nel paraggio so... O di queste liane non mi divertono più! Eccomi qui! Sono tornato, baby! Stavo proprio parlando di te, lo sai? Oh, quanto mi sei mancato! Cookie! Ho un sacco di cose incredibili da raccontarti! Storie assurde! Ho dormito fuori due volte! Lo so, io! Oh, ti ho preso una spilla commemorativa! A tavola! Parliamo dopo! Dimmi, basta? Vai, John! Sono bellissimi nel formaggio! Ne ho altre due nel freezer, fammi sapere quando ti vanno! Vado a controllare il dolce! Mi scuso con il pubblico, il pasto che state per vedere è per stomaci forti e se avete bambini piccoli, meglio farli uscire dalla stanza! Il mio modo di esprimermi è la cucina, i miei colori sono i sapori, la mia tavolozza è il mio palato, si può dire! La cena è servita! Cavolo figliolo, non sapevo che cucinassi! Ah sì, la pasta è la mia pittura e il piatto piano la mia... Oh, ecco dov'era! Ho mangiato di peggio! Grazie, Garfield! Pensi che verrà a cena da noi spesso? Sì! Lui è famiglia! Cosa? Perché mi sono state addebitate 6.000 consegne via drone? Consegna una! Cosa? Cosa? Siamo quasi al ponte, dobbiamo andare in coda al treno, dai! Cosa? Perché? Conseguimi! Ehi, Nicentia! Davvero credevi di poter competere con noi da solo? No, ho portato da mangiare. Come? Ah! Non avevo mai capito l'utilità dell'insalata fino a questo momento. Via, via! Dai! Inseguilo! In caso ve lo stiate chiedendo, non uso controfigure. Siamo solo io... e Tom Cruise. Junior! Fermatelo! Un po' di piccanti! È stato fantastico! Non mi sento la lingua! Spaffolato! Siete in codaldreno pronti al salto? Papà! Papà! Salta, Junior! Ti prendo! Che facciamo? Facciamo così! Ci si vede! Facciamo così!